buongiorno eccoci qua per una breve diretta ho pensato di fare una piccola diretta per parlare degli nuvo shimmer perché li stiamo usando tantissimo in negozio in questo periodo abbiamo fatto anche un corso gratuito make and take nel quale abbiamo fatto questi due questi due segnalibri però mi sono resa conto che ne ho parlato poco durante i nostri live e i nostri i nostri progetti settimanali l'ultimo che ho fatto è questo qua in realtà quindi l'abbiamo l'abbiamo anche usato però volevo appunto parlarvene un po di più chiacchierare un pochettino con voi per chi magari in questo orario un po insolito per noi viene riesce a raggiungerci e ha voglia di stare con noi un attimino e parlare appunto degli degli shimmer o comunque se vedete indifferita la la diretta commentate che magari vi vi scriviamo vi commenti vi rispondiamo se avete delle domande le curiosità questa è l'ultima che ho fatto l'ho fatta questa mattina la trovo stupenda questo è un colore che non avevo ancora provato è un giallo si chiama solar flare e mi piace molto bene io adoro il giallo quindi insomma mi piaceva mi piaceva abbinarlo a questi che sono dei washi tape in realtà sono è questo washi tape della the washi tape company shop scusatemi the washi tape shop che appunto vanno ritagliati ma appunto recentemente sto scoprendo sto utilizzando molto la ceramic pen che questa qui questa penna con la punta in ceramica di stamperia e all'inizio l'ho trovata un po ostica ma alla fine la ho capito ho preso un po di demestichezza con la pressione perché tutta una questione di pressione e la trovo comodissima per cui la consiglio la consiglio veramente tanto ne abbiamo forse ci sono rimasti un paio di pezzi ancora in negozio per cui se vi piacciono i washi tape la carta washi questa è fantastica perché basta una leggerissima pressione l'importante non fare troppa pressione ma tenere una leggerissima pressione ovviamente tenere la la puntina come insomma come se fosse un coltello e poi magari vediamo se se riusciamo la la proviamo insieme ho fatto un video anche recentemente ma appunto se se volete se se riusciamo la possiamo anche provare insieme quindi insomma questi qua sono sono dei dei washi tape che ho applicato la cosa molto bella degli shimmer è che sono proprio molto molto scintillanti appunto adesso non so se da video si riesce a percepire hanno un effetto a macchia sicuramente ma poi hanno una finitura metallizzata molto molto bella e questo colore mi piace veramente tanto allora vi farò poi pian piano vedere anche le effetti finali diciamo degli utilizzi qua ho erano delle card che ho fatto durante make and take giusto gli sfondi molto veloci da 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 vedere cioè insomma li abbiamo fatti in modo molto veloci giusto per vedere come come si utilizzavano allora adesso vado a farmi un po di un po di prove insieme a voi questo è un cartoncino acquarellabile in realtà è un cartoncino acquarellabile a 200 grammi meglio ancora forse sarebbe quello da 300 grammi però va benissimo quello da 200 grammi la cosa importante è mettere lo scotch un washi tape dello scotch di carta così a bloccare per andare a bloccare perché ovviamente la carta tende con con l'acqua perché appunto di shimmer adesso vedremo si usano con l'acqua la carta ovviamente tende a a imbarcarsi quindi se poi si imbarca e sto mettendo il mio il mio shimmer si prenderà delle direzioni che non voglio cioè si sposterà e non va bene quindi cerchiamo di fissarlo alla base ok magari andiamo a fissare già un paio così intanto che lavoriamo con uno possiamo fare anche qualche altra piccola prova ovviamente non vedremo probabilmente il risultato finale perché lavorando con l'acqua ci metterà un po di tempo ad asciugare e quindi probabilmente vi farò delle foto per per vedere l'effetto finale perché appunto ci vuole un po di tempo prima che la carta si asciughi allora intanto ci andiamo a fissare tutti e quattro i lati cercate di stare diciamo adesso qua io l'ho fatto un po a caso perché stavo parlando però cerchiamo di essere il più possibile eh omogenei nel nel bordino che andiamo a creare con il washi tape perché una volta che andremo a togliere il washi ovviamente il bordino rimarrà vedete qua c'era il bordino questa qui rimarrà una linea piuttosto netta quindi se eh faccio il bordino tutto uguale comunque l'effetto finito eh il finale è comunque bello ok almeno un paio me lo sono ne sono già andata a a posizionare allora mi prendo uno spray con dell'acqua uno spruzzino con dell'acqua pulita e nel questo primo caso vado a spruzzare prima il mio foglio un po da quel dalla mia esperienza diciamo preferisco fare una cosa mista cioè eh adesso vi faccio vedere qui ho già spruzzato la la mia carta con un po di acqua pulita vado a prendermi il mio shimmer e vado a buttare la polvere ehm non rovesciatela e spremete perché farà una un gran casino perché ne uscirà tanta quindi va picchiettato il il flacone e scenderà vedete della polvere in questo modo ehm così ovviamente dove è già bagnato dove ho bagnato di più inizierà a reagire con l'acqua dove ho bagnato di meno rimarrà un po più polveroso se poi vado ad asciugare la parte cioè lo lascio così la parte più polverosa anche una volta asciutto non verrà trattenuta dall'acqua quindi si staccherà quindi comunque un po d'acqua la vado aggiungere come dicevo io preferisco fare una cosa mista quindi eh un po da bagnato e un come dire poi aggiungere un po d'acqua si può ovviamente aggiungere poi ancora un po di polvere dove mi sembra che ci sia poca poco colore comunque l'effetto sarà un po casuale eh perché non possiamo buttando 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 la polvere in modo picchiettandola così ovviamente l'effetto sarà sarà un po casuale adesso io qua ho ehm ho buttato la la polvere un po ovunque qui per esempio ho deciso ho deciso di fare una come dire un effetto un po ehm a striscia fascia no mi piaceva che ci fosse un effetto così perché poi sapevo già di voler mettere le farfalline volevo creare un effetto un po magico e quindi non l'ho messo su tutto il cartoncino qui ovviamente ho messo su tutto il cartoncino ovviamente posso anche mischiare colori quindi posso anche andare a mettere per esempio un po di un po di lilla e un po di giallo per esempio gli shimmer spesso questo giallo è piuttosto piuttosto omogeneo come colore spesso gli shimmer hanno invece all'interno pigmenti di diversi di diversi colori infatti vedete questo questo lilla che dentro ha del lilla ma anche dell'azzurro ehm quindi sì ed è rosa quindi sono proprio dei colori piuttosto piuttosto misti vediamo qua per esempio ne avevo fatto uno misto verde e e lilla ehm questo qua invece era tutto verde questo qua era era tutto tutto lilla ovviamente i cartoncini che andiamo a crearci possono essere degli sfondi molto belli per delle card oppure li possiamo anche andare a fustellare io per esempio adesso cercherò il campione ecco qua per esempio in questo caso qui mi ero andata a creare un cartoncino come potrebbe essere per esempio una cosa del genere o questo qui in effetti era era proprio ora o no in questo caso era soltanto oro però per per esempio in altri casi l'avevo fatto oro e verde e poi questo cartoncino io posso benissimo andare a fustellarlo per esempio che mi ero fustellata delle delle foglioline e questo insomma è un esperimento numero uno diciamo quindi poi vedremo se riusciamo a vedere un po l'effetto finale in questi questi minuti che passiamo insieme se no magari vi manderò sicuramente posterò qualche foto del risultato finale ok adesso cerco di spostare un po più in su il mio il mio piano di lavoro e vado a prendermi un altro cartoncino lo vado sempre a bloccare con lo sci tape perché appunto non voglio che la carta mi si mi si imbarchi eccessivamente cioè non teoricamente sarebbe bene che non si imbarcasse proprio per nulla un pochino non so se qua si nota tende a a gonfiarsi ovviamente la carta però essendo carta querellabile comunque una volta che il mio lavoro si asciuga torna perfettamente perfettamente dritta vedete lo vedete anche proprio qua questo qua l'ho fatto questa mattina quindi basta che asciughi un po e torna torna in forma ok adesso voglio provare gli shimmer con gli stencil quindi vi farò vedere come usarlo con lo stencil l'effetto dello stencil è piuttosto anche lì piuttosto casuale gli shimmer ovviamente non possiamo più di tanto governare dove andranno quindi l'effetto sarà più o meno casuale ora utilizzo uno stencil questo è uno degli ultimi stencil di stamperia che sono arrivati mi piace molto non so se fare le dai provo le scritte tendenzialmente abbiamo capito che quelli che hanno le trame troppo sottili l'abbiamo scoperto durante il make and take quelli che hanno le trame troppo troppo sottili spesso non vengono benissimo ma proviamoci perché mi piacciono tantissimo queste scritte un'altra cosa che abbiamo scoperto capito è che in questo caso meglio non eccedere con l'acqua quindi vado a mettermi lo stencil dove dove voglio spero si vede bene sì forse ok così forse si vede un po meglio vado a picchettare la polvere sullo stencil vado a spruzzare un po' d'acqua cercando ripeto di non eccedere troppo ok vediamo che entri un pochino nelle fessure della come dire nelle fessure dello stencil ora non non sono in una stazione solita perché ho problemi di internet quindi non riesco a essere là e poi non riesco a usare l'embosser quindi se avete l'embosser quindi un fonettino vi consiglio di asciugare un pochino in questa fase l'acqua con la polvere giusto perché almeno la carta l'assorbe un po' di più e rimane un effetto un pochino più nitido in questo caso ne faremo a meno e andremo a tamponare un pochino la carta e questo è l'effetto comunque mi piace penso che sia un effetto comunque molto interessante come vi dicevo è un effetto sempre un pochino casuale perché non posso pretendere che venga come uno stencil diciamo normale con una parte molto definita perché ovviamente la polvere e l'acqua vanno poi un po' dove vogliono loro l'ultima cosa che voglio farvi vedere è anche come creare allora un'altra cosa molto carina che ho fatto in un video che ho postato recentemente è colorare questi fiori tridimensionali dell'Alexandra Renche qui per chi non l'avesse visto ho mascherato le parti che non volevo che venissero colorate con dello scottex ora poi nel risultato finale un pochino si macchia anche intorno quindi non è comunque nell'effetto di insieme secondo me è carino però se vogliamo evitare che si sporchi anche la carta sotto ci ho pensato dopo ma forse è meglio abbinare insieme allo scottex che comunque assorbe anche magari un po' di plastica quindi magari mettiamo una plastichina sotto sopra la plastichina lo scottex in modo che la carta assorbente assorba la carta in eccesso e la plastica eviti che mi vada a macchiare anche il cartoncino sotto comunque questo video che ho fatto è la stessa cosa nel senso che ho mascherato il contorno ho spruzzato un po' d'acqua, ho picchiettato un po' la polvere e l'effetto è questo qua ok quindi è la stessa tecnica limitata ad alcune aree la cosa molto bella è che anche scintillanti lo trovo molto bello questo qua era l'altro campioncino del progetto che abbiamo fatto in negozio con il corso gratuito sugli shimmer e questo qua era un altro stencil un po' tribale quindi anche questo qua appunto in questo caso invece non so se si vede a schermo c'è anche un fiorellino, questo è una silhouette, un fiorellino in silhouette fatto con l'embossing a caldo prima quindi prima l'embossing a caldo bianco e poi dopo gli shimmer ovviamente dove c'è la polvere dell'embossing che l'embossing alla fine non è altro che dei granuli di plastica sciolti con l'embosser quindi ovviamente il colore sulla plastica non attacca, non attecchisce e emerge la timbrata che abbiamo fatto quindi in questo caso prima l'embossing a caldo timbrata con l'embossing a caldo e dopo gli nuovo shimmer possiamo anche fare delle goccioline insomma crearci dei colori con gli shimmer quindi vado a mettere un pochino d'acqua qui pulita, proprio solo acqua anzi mettiamolo un po' di qua che c'è il bianco della tavoletta ok vado a buttarci sempre qualche gocciolina di shimmer così, un po' di polvere con un pennellino vado a miscelare l'acqua e la polvere e a questo punto io posso o andare a farmi delle goccioline così che anche qui andranno ad asciugare ok oppure posso pensare di dipingere qualcosa tipo in questo caso qua avevo dipinto il fiorellino all'interno proprio così col pennellino ovviamente se il colore ha se lo shimmer ha più pigmenti all'interno un po' vengono miscelati cioè in questo caso il lilla ha del fucsia e dell'azzurro se vado a miscelarli un pochino si perde questo mix di colori qua sotto emergono molto bene nelle goccioline che vado invece a crearmi vedete che è praticamente solo lilla ok questi sono i piccoli esperimenti che volevo fare con voi guardate che carino anche questo che si sta miscelando questo giallo e questo lilla creano proprio perché poi si miscelano tra di loro i pigmenti l'acqua li fa insomma li miscela anche in modo un po' casuale e diventano molto belli che altro vi volevo dire probabilmente appunto vedremo il risultato finale fra qualche ora quindi vi manderò poi qualche foto del risultato finale molto bello anche questo lo userò come basi per qualche card ripeto molto belli anche da usare con con questi con questi washi tape della washi tape shop volevo solo farvi vedere brevemente darvi qualche consiglio che vi dicevo prima sull'utilizzo della penna perché appunto pian piano sto mi sto un po' impratichendo e qualche consiglio che posso dare sicuramente farà caso a dove dove ho la come come la punta e il taglio di questo cutter e poi la pressione cioè non c'è assolutamente bisogno di fare troppa 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 pressione cioè basta che io procedo normalmente adesso ovviamente facendolo live mi verrà malissimo perché quando si fanno le cose live però appunto basta proprio procedere in modo normale quando mi trovo in un punto in cui devo fare una curva importante il consiglio è quello di non girare la penna ma di girare adesso qua faccio così ma di girare il foglio cioè il il tape poi ideale sarebbe cercare di non staccare mai vedete la 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 punta vedete qua ho fatto ho deciso di girare la pressione cambia perché se giro la mano il polso piuttosto che il cartoncino inevitabilmente la mia pressione sulla la mia pressione sul cutter cambierà quindi aspettate che provo mi rimpicciolisco un po' il tape perché sennò faccio fatica a schermo come dire a a lavorarci inevitabilmente cambia invece se io invece che girare l'inclinazione del polso giro il cartoncino il tape questa cosa non la faccio adesso qua in questo punto ritornerò indietro perché ok sì ovviamente come 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 prevedibile a video adesso sto come dire però no guardate cioè veramente la muovo come se fosse veramente una penna la trovo veramente veramente comoda e niente l'ideale ripeto sarebbe mantenere una pressione per cui cioè non riesce neanche la la carta sotto io taglio cioè incido proprio semplicemente il il washi tape la carta washi e questo è l'effetto l'effetto finale poi ovviamente la come dire la carta washi anche se c'è un pochino di di contorno sulla vediamo se troviamo uno sfondino come ho già fatto se ha un po' di bordino ovviamente poi sul sulla carta non non si vede ha un effetto stupendo tra l'altro questi qua sono anche leggermente a rilievo per cui al tatto sono sono veramente belli va bene allora spero che questo brevissimo video possa esservi stato utile vi vi manderò le foto dell'effetto finito soprattutto questo mi piace veramente tanto è venuto molto bene questo con lo stencil vi auguro una buona giornata e alla prossima ciao ciao